Entro il 2040 in Abruzzo gli over 80 aumenteranno passando dall'8 al 12% della popolazione regionale a fronte di una riduzione dei giovani. Le sfide da affrontare saranno quindi molteplici con un aumento potenziale della domanda di salute e assistenza, un più 30% si calcola, e la necessità di coprire le zone più remote del territorio. La sezione Sanità di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e il Silver Economy Network hanno scelto di affrontare i temi dell'integrazione tecnologica e dell'assistenza territoriale per salute e inclusione e tutela della fragilità nell'evento di apertura del progetto di Roadshow, grazie anche alla presenza di figure istituzionali chiave del territorio. Mettere a sistema la sanità digitale è dunque fondamentale, come sottolinea l'assessore regionale della sanità Nicoletta Veri. Vuol dire che la sanità che entra attraverso la telemedicina, la fertilizzazione entra nelle case dei pazienti e abbiamo del personale che già è stato messo in atto, abbiamo messo in atto il personale che potrà dare delle risposte adeguate, ossia attraverso una formazione mettono a sistema quelli che sono i risultati, quella che è la diagnosi e quella che è l'osservazione costante del paziente che è a casa, per cui abbiamo una specie di ospedale a casa del paziente, quindi è fondamentale questo network, tutto ciò che è la sanità digitale, importante in questa regione. A sottolineare ulteriormente l'importanza del Silver Economy Network è la presidente Mariucce Russini. I benefici per l'Abruzzo sono molteplici, perché il Silver Economy Network si ripropone di mettere in linea e in sinergia tutte le aziende che si occupano di anziani o di longevità, per cui non c'è solo la sanità, ma anche il turismo, anche la cosmetica, anche la farmaceutica, per cui sono molteplici le attività che possono essere svolte nell'Abruzzo e soprattutto c'è un impulso importantissimo con gli fondi del PNRR.